appuntamento speciale con il nostro real time analysis oggi ci addentriamo nel mondo delle candele giapponesi azzardiamo una metafora prima di iniziare il mercato in questo momento è fatto da onde in continuo saliscendi il mare è sicuramente mosso quindi la bussola in questo momento è sempre il prezzo e il porto sicuro possono essere le candele giapponesi tra poco risponderà cercherà di rispondere a queste domande enrico j scatta col trend ma prima di lasciarvi alle analisi una curiosità le candele giapponesi furono utilizzate per la prima volta nel giappone del diciottesimo secolo per seguire l'andamento dei prezzi del riso e adesso guardate l'analisi ciao ben trovati a tutti oggi un video diverso dedicato a chi proprio inizia ad avvicinarsi all'attività del trading online e spesso lo fa chiaramente con la lettura dei classici libri di analisi del punto con la ricerca sul web di materiale quando si va ad approcciarsi alle candele giapponesi la candela che subito balza all'occhio e più di tutti ci va ad affascinare per la sua semplicità di utilizzo e ci porta magari spesso anche erroneamente fuori strada e magari ci porta troppo presto a fare trading è la candela hammer il classico martello è una candela che propone un'inversione di trend ossia abbiamo solitamente un trend ribassista il prezzo arriva su quello che è un supporto quindi su un livello che i prezzi già precedentemente avevano riconosciuto come un'area dal quale rimbalzare e quando arrivano sul supporto si forma il nostro hammer l'hammer può avere il body cioè il corpo di colore verde o rosso ma chiaramente in una ottica di inversione di trend da ribassista a rialzista chiaramente è migliore un hammer verde perché perché sostanzialmente un hammer verde ci va a indicare che il prezzo chiude la sua sessione quindi qualsiasi sia il time frame sulla quale si fa analisi chiude la sua sessione sui massimi della della candela della candela che ha chiaramente degli importanti risvolti di inversione perché questo perché quando la candela durante la sessione si è mossa era arrivata sui minimi sui minimi e quindi stava formando una nuova candela ancora ribassista poi quello che è accaduto è che proprio dai minimi i compratori entrano in gioco probabilmente riconoscendo l'area supportiva dove già precedentemente il prezzo aveva rimbalzato dicevamo i compratori entrano in gioco fanno riassorbire verso l'alto la candela e poi vanno a far chiudere addirittura sui massimi prezzo e quindi rimane la spike cioè l'ombra e poi il corpo che diventa verde perché il prezzo chiude più alto di come aveva aperto e quindi abbiamo un hammer quindi un pattern anche se solitamente il pattern è una combinazione di candela in questo caso l'hammer si dice che fa pattern da solo è fondamentale però andare a esaminare alcune situazioni che vanno assolutamente messe messe sott'occhio quello che è importante dire è che molto spesso quando si ha un hammer quello che accade è che soprattutto per chi segue con attenzione libri di analisi tecnica viene suggerito di entrare chiaramente al rialzo essendo un pattern di inversione posizionando lo stop loss poco al di sotto dei minimi dell'hammer questo molto spesso si rivela un errore perché la volatilità dei mercati la possibilità di apertura in gap e così via è molto spesso alta e quindi sarebbe più saggio se abbiamo ad esempio un livello supportivo si appoggia lasciare lo stop un po più largo perché spesso se andiamo a rivedere indietro nel tempo il grafico anche altri grafici grafici scusate vediamo come il prezzo sporchi tenda magari a fare una falsa rottura del livello supportivo poi per poi ripartire al rialzo e quindi è bene parlare di aree di prezzo e non di livelli precisi per cui se noi su questo hammer intendiamo aprire un trade long per puntare al rialzo è bene andare a identificare una area di prezzo più che un livello preciso un'area che dovremo portando indietro il grafico nel tempo andare a vedere dove è stata sporcata precedentemente anche più indietro per andare a posizionare il nostro stop loss magari un po più largo e non proprio sotto sotto l'ambre altrimenti avremo la possibilità anzi direi la probabilità di vedere il nostro stop colpito e per poi vedere il prezzo ripartire altra cosa fondamentale che molto spesso chi inizia a fare trading non riesce a star fermo ossia il desiderio di entrare comunque a mercato e di cercare subito profitto ci porta sostanzialmente a vedere un hammer un pack dove non c'è gli hammer ben fatti andiamo subito a evidenziare uno un hammer ben fatto ad esempio questo ha delle caratteristiche molto molto precise la prima caratteristica è che il corpo deve essere molto piccolo rispetto alla spike ossia la spike deve essere almeno almeno il doppio rispetto al corpo in questo caso vediamo che probabilmente anche il triple questo è un hammer ben fatto e soprattutto la parte superiore dell'hammer non deve avere sopra spike ossia l'hammer deve chiudere sui massimi della sua sessione questo indica che fino all'ultimo c'è stata spinta rialzista e non ci sono state vendite durante la salita assenza di spike è fondamentale molto spesso invece per entrare comunque quando il mercato sembra muoversi si va a vedere quello che non c'è si va a vedere un hammer che non è correttamente fatto e magari una spike sopra che non ci dovrebbe essere o che la spike sotto non è sufficientemente lunga chiaramente esistono gli hammer rovesciati che sono posizionati invece in alto in cima dei trend rialzisti in quel caso prendono il nome di shooting ma sostanzialmente la figura è la stessa ed è semplicemente rovesciata ne abbiamo un esempio qui ecco qui è un hammer sicuramente ben conformato ben posizionato perché arriva dopo un lungo rialzo vediamo una spike molto estesa un corpo piccolo preferibilmente rosso quando cerchiamo dei trade al ribasso e vediamo che sotto non ha la spike ossia il prezzo da questo punto è andato a salire poi i venditori hanno riassorbito la candela che lascia una spike molto lunga e addirittura scende ancora e chiude proprio sui minimi della sua sessione quindi fino all'ultimo c'è stata vendita e non ci sono state coperture nessuno ha ricomprato quindi questo è un forte segnale ribassista possiamo vedere degli hammer molto molto ben conformati e in questo caso addirittura ne abbiamo due ravvicinati ecco il primo hammer e il secondo entrambi molto ben fatti vediamo nel primo non c'è nessuna spike sotto nel secondo possiamo intuire appena intuire una spike al di sotto ma sostanzialmente una spike pressoché nulla che possiamo considerare inesistente corpo rosso spike molto estesa al di sopra e posizionamento dopo un lungo trend rialzista e qui si evidenzia ancora in maniera più chiara e più netta come si sia in presenza di un livello che è una resistenza forma un doppio minimo di brevissima questi due hammer quindi un ottimo segnale e sostanzialmente tutta l'area parlare di area e non di prezzo preciso al millimetro perché altrimenti rischiamo sempre qualche brutta sorpresa vediamo come questa area è un'area di resistenza che ci viene proprio poi confermata dalla presenza di due martelli rovesciati che ripeto hanno la stessa funzione omo speculare dell'hammer rialzista ma semplicemente prendono il nome di shooting ma al nostro hanno candele uguali semplicemente rovesciate per cui è importante andare a evidenziare delle candele che siano ben fatte che siano posizionate su dei livelli oggettivamente e ricordarci poi di parlare di aree di prezzo e di posizionare il nostro stop loss magari un po più lontano rispetto a quello che si legge nei libri di analisi tecnica buon trading a tutti alla prossima grazie naturalmente a enrico j per questa analisi e grazie a tutti voi per averci seguiti rimanete sulle fonti tv